Il T-HST3 Il T-HST3 permette di sfruttare a pieno la capacità del calcestruzzo laddove i carichi a trazione della concorrenza sono limitati dalla funzionalità dell'ancorante. Grazie all'innovativo design delle alette di HST3, assieme al nuovo speciale metodo di produzione, si raggiungono i più alti valori di attrito ed una maggiore percentuale di tenuta sotto squadro nel cemento, portando a prestazioni di tenuta senza pari. Geometrie sfidanti sono sempre più frequenti e gli ingegneri richiedono una soluzione che soddisfi tutti i parametri geometrici. La soluzione ILTI La nuova generazione di ancoranti ad espansione HST3 Il minore interasse e distanze dai bordi del calcestruzzo di HST3 permettono agli ingegneri e alle imprese una maggiore flessibilità di progettazione e di installazione rispetto agli ancoranti della concorrenza. HST3 permette inoltre di ridurre le dimensioni delle piastre in acciaio da fissare, con un conseguente risparmio di costi. Minime distanze tra ancoranti e dai bordi del calcestruzzo di HST3 sono possibili grazie allo strato di rivestimento su tutta la lunghezza dell'ancorante, che in maniera innovativa riduce le forze di espansione all'interno del cemento armato. HST3 funziona dove gli altri ancoranti ad espansione portano a rottura il calcestruzzo.